I monopattini elettrici sono pronti a tornare a Milano, questa volta con una flotta più che regolamentata di 2250 dispositivi. Nei prossimi giorni verranno posati gli ultimi cartelli stradali e dopo tutte le verifiche potrà partire il servizio. E proprio ieri, dopo il bando di Palazzo Marino pubblicato lo scorso ottobre, sono state selezionate le tre aziende che dalle prossime settimane potranno fornire il servizio di micromobilità sharing per le strade della città. Le società che si divideranno equamente il totale della flotta, 750 monopattini per ogni gestore, sono Wind Mobility, Byte Mobility e Elbitz Italia. Per iniziare a fornire il servizio di sharing dovranno versare il deposito cauzionale sotto forma di fideiussione e chiedere l'autorizzazione di avvio dell'attività presso gli uffici dell'assessorato al commercio. Tutti i veicoli dovranno essere omologati, dotati di luci, numero identificativo e limitatori di velocità e dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sicurezza per l'utente. Ciò che cambia dall'estate scorsa, quando i monopattini avevano già iniziato a moltiplicarsi in città e prima della diffida del comune a proseguire l'attività, è che questa volta vi è un sistema di regole chiare e precise. In città i dispositivi potranno circolare nelle zone 30 km orari, ad eccezione di quelle segnalate dagli 80 cartelli di divieto. Via libera anche sulle piste ciclabili, lungo i percorsi ciclopedonali e in futuro anche sulle strade asfaltate all'interno dei parchi. In più, la novità riguarda i parcheggi, i monopattini e simili potranno sostare esclusivamente negli stalli di sosta dedicati alle biciclette o all'autostrada, dove non si è espressamente vietato. Nella cerchia dei navigli dove non esiste sosta libera, i monopattini potranno attivare e chiudere noleggio solo in uno degli oltre 4.300 stalli sosta per le biciclette, attraverso sistemi tecnologici realizzati a cura delle società di gestione.